Un Natale triste, quello del 2014, a Leivi. Dove trovare la forza per andare avanti? Sono i stessi. Sono vicino ai cittadini di Leivi e del comprensorio che hanno sofferto. Dobbiamo essere con loro, partecipare alla loro situazione e trovare, facendo leva sulle energie nazionali, il grimaldello di rilancio per questo territorio. Si avvicina il Natale a San Colombano. Come sarà quest'anno? Certamente un Natale un po' particolare. Sarà un Natale un po' particolare perché stiamo passando un periodo non tanto felice per gli effetti di queste alluvioni che ci sono state nel mese scorso. Io ho delle frazioni che veramente stanno soffrendo e mi duele il cuore a volte dirgli che certe strade per il momento non potrò aprirle perché i lavori sono lunghi e difficoltosi. Lei sta per vivere il primo Natale da sindaco, ha partecipato all'incontro con il Levescovo. Qual è la prima impressione? Ha estremamente gradito anche le tematiche che abbiamo affrontato insieme a Sua Eccellenza. Tanta soddisfazione, tante riflessioni perché il Natale è una festa, è un momento di gioia ma deve essere anche un momento di riflessione. Il Vescovo ha presentato una situazione che molti paroci segnalano, ovvero persone che fanno fatica a pagare le tasse e chiedono aiuti alle parrocchie. Da questo punto di vista come Comuni si può fare qualche cosa secondo lei? È estremamente difficoltoso. Noi ad esempio sul sociale stiamo stanziando delle cifre molto molto importanti. Quanto? Siamo più di 4 milioni e mezzo di euro, il Comune di Rapallo, per il sociale. Dovremmo stanziare di più ma proprio non abbiamo le risorse, quindi dobbiamo riuscire a trovare delle scamotage, delle formule diverse.